Nelle Marche 6.000 contagi, record di morti 15 giornalieri, ma la regione non sarà arancione, lo dice il primario di malattie infettive di Torrette, dove sono attivi 8 nuovi posti letto di semi-intensiva dopo la visita di Figliuoli. Novità dall'ufficio scolastico regionale per medie e superiori, il direttore Filisetti, la quarantena si dimezza 5 giorni, si rientra in classe anche con un tampone rapido che può prenotare la scuola. Quirinale, terza fumata nera, prende corpo l'ipotesi di un mattarella bis, ma il sindaco di Pesaro Matteo Ricci chiede di puntare su Draghi per la presidenza della Repubblica. La scoria alla benedizione del Papa, in Vaticano una delegazione delle squadre di Serie B, Samb, arrivano 4 under, un portiere, due terzini e un attaccante. Il recupero di Castelfidardo Notaresco finisce 0-1. Ben ritrovati all'edizione serale del nostro Tg Marche, c'è un nuovo record di morti. Purtroppo sono stati ben 15 in 24 ore, tra loro 4 donne del Piceno e 5 della provincia di Pesaro Urbino. L'area medica sfiora l'arancione, scendono invece, ricoveri in terapia intensiva. Ma Salta Martini ribadisce dunque la non riapertura del Covid Center di Civitanova e dice di vedere la luce in fondo al tunnel. Un altro record di decessi nelle Marche per l'ultima ondata di Covid, 15 in un solo giorno dopo le 11 vittime registrate nel report di ieri. Si tratta di persone tra i 71 e i 99 anni alle prese anche con patologie pregresse. Tra loro ci sono 4 donne residenti nella provincia di Ascoli Piceno, 2 84 anni di Cupra Marittima, una 91 anni di San Benedetto del Tronto e una 92 anni di Acqua Santa Terme. 3 uomini del Lanconetano, 2 nel Fermano, una 83 anni di Tolentino e infine 5 vittime della provincia di Pesaro Urbino. Sul fronte ospedaliero ci sono 3 degianti in più rispetto a ieri e il totale si porta a 357. Segnano il passo però i ricoveri in terapia intensiva meno 1 e semi-intensiva meno 4, mentre si registrano 8 pazienti in più in reparti non intensivi. Numeri che consegnano un'occupazione dei pazienti Covid nelle terapie intensive del 22,7%, oltre la soglia della zona arancione. In area medica 299 ricoverati su 1.010 posti, ovvero il 29,5%, dato che continua a sfiorare la soglia per il passaggio in arancione. 25 sono invece i dimessi e 225 gli ospiti di strutture territoriali, mentre le persone in osservazione e nei pronto soccorso sono ben 58. Ma l'assessore Salta Martini vede la luce in fondo al tunnel. C'è stata una polemica nei giorni precedenti sui giornali in cui si chiedeva perché non riaprire il Covid di Civitanova. La risposta è semplice, in questo momento noi abbiamo 56 persone in terapia intensiva su 253 posti. Se apriamo Civitanova non riusciamo a curare gli altri malati, i cardiopatici, le persone malate di tumore. Quindi in questo momento non ci sono solo pazienti Covid, dobbiamo curare tutti e uscire fuori da questi incubi. Io sono positivo perché rispetto a un anno fa quando avevamo 260 persone in terapia intensiva, oggi ne abbiamo un quinto. Significa che i vaccini coprono, ci difendono dal Covid-19. Invito tutti a vaccinarsi e credo che finalmente la luce in fondo al tunnel è una luce importante. A livello di contagi sembra ormai raggiunto il cosiddetto plateau, 6.196 positivi in un giorno sulla base di oltre 19.000 tamponi totali, tasso di positività stabile al 15,6% e incidenza su 100.000 abitanti in lenta crescita che sfiora a quota 2.700. Ed è convinto che le Marche non entreranno in zona arancione il primario di malattie infettive della Torrette, che ha attivato di recente otto nuovi posti letto di semi-intensiva e ha ricevuto anche la visita del commissario Figliolo. Importanti novità per la divisione clinica malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona, diretta dal professore Andrea Giacometti e condivise anche dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, Paolo Figliolo. È disponibile anche una sezione di semi-intensiva al piano zero, dove sono presenti disponibili otto posti letto per i pazienti più severamente impegnati. È una zona che è stata progettata e costruita con tutti i più moderni criteri, verificata e provata anche personalmente da Figliolo, che è venuto qui ad ispezionare. E come lei ha visto è veramente all'avanguardia, con dispositivi e strutture veramente eccezionali. Ci abbiamo messo del tempo per approntarla, però adesso è disponibile. È vero che è disponibile ora, che forse grazie a Dio l'epidemia piano piano va un po' scemando, speriamo. Ecco, da questo punto di vista che previsioni possiamo fare? C'è stato un momento negli ultimi settimane in cui veramente un po' abbiamo annaspato, nel senso che avevamo il reparto pieno, non c'era sempre il posto letto disponibile subito per i pazienti provenienti dal pronto soccorso, per cui poi la direzione generale ha dovuto predisporre altri posti letto in altre strutture. Attualmente c'è sempre uno o due posti letto disponibili per il pronto soccorso, quindi la pressione è scesa un pochino. Siamo diciamo in una fase stabile, io spero che piano piano per febbraio ci sia veramente una evidente discesa delle necessità di ricovero. Questo significa che potremmo addirittura evitare la zona arancione? Penso di sì, le dico, attualmente ormai da più di una settimana stiamo un po' respirando, abbiamo sempre il 95% dei posti letto occupati, per cari di quelli che abbiamo a disposizione nella palazzina, però due pazienti dimettiamo, due pazienti arrivano, c'è un equilibrio, c'è un equilibrio con sempre posti letto disponibili, liberi per il pronto soccorso, questa è una cosa che settimane o mesi fa non accadeva. Scuole in tilt per il tracciamento e le quarantene arrivano nuove indicazioni dal direttore generale dell'ufficio scolastico Filisetti, la novità più importante è che si riduce il tempo di quarantena da 10 a 5 giorni, allora facciamo il punto in questo servizio di Ciro Montanari. Le disposizioni sul tracciamento e le quarantene pongono in una situazione complicata all'organizzazione nelle scuole marchigiane. A seguito di confronti tra l'ufficio scolastico regionale e Regione Marche arrivano nuove indicazioni per la gestione del Covid. Al fine di rimediare alle difficoltà comunicative che si erano rilevate tra scuola e ASUR, si è provveduto, d'intesa con l'ASUR, a rendere possibile ai dirigenti scolastici, tramite identificazione e tramite SPID, l'accesso diretto al sistema informativo dell'ASUR per il caricamento dei dati in forma massiva relativi ai contatti stretti che si sono rilevati nella scuola. Non solo, ma anche con questa modalità è consentito alle scuole di provvedere a prenotare il punto di erogazione del tampone a favore delle famiglie degli studenti che devono soggettarsi a questo adempimento. Per le scuole secondarie di primo e secondo grado, in presenza di due casi positivi nella classe, le misure per gli studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di quattro mesi, con Green Pass valido, prevedono ora la sospensione dell'attività in presenza e la didattica digitale per cinque giorni. Sempre d'intesa con ASUR, per i ragazzi con un vaccino oltre 120 giorni, ma purché in possesso del Green Pass, frequentanti classi con due compagni di scuola contagiati, si è ridotto il tempo di quarantena e conseguentemente di sospensione della presenza a scuola a cinque giorni rispetto ai dieci precedenti. In questo modo si è ritenuto di facilitare la presenza degli studenti, nonché le incombenze in capo alle famiglie per consentire la ripresa a scuola dei propri ragazzi. E come dicevamo, continuano i contagi nelle scuole, soprattutto tra i più piccoli, all'infanzia e alla primaria, e nonostante le varie difficoltà, l'istituto scolastico comprensivo da Vinci Ungaretti di Fermo, grazie a una mail dedicata e a un coordinamento tra i docenti dei vari plessi, il 60% degli allievi continua a seguire le lezioni in presenza. Donatella Lappa. Il tanto invocato dagli esperti plateau epidemico sembra non essere ancora stato raggiunto nelle scuole in cui i contagi continuano a crescere e tante le classi che vanno in dad per allievi positivi, tante che rientrano in presenza dalla quarantena, in un continuo turnover che all'istituto scolastico comprensivo da Vinci Ungaretti di Fermo si attesta sul 60% di allievi in presenza. La situazione nel mio istituto è abbastanza in affanno per quanto riguarda il discorso dei contagi, che aumentano quotidianamente in maniera vertiginosa, per cui abbiamo una fascia d'età che l'anno scorso veramente non era stata colpita, sto parlando della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e invece adesso vediamo che questi contagi si moltiplicano giorno dopo giorno. A complicare il tutto sono tutte le procedure che noi dobbiamo mettere in atto e che sono differenti a seconda degli ordini di scuola e che cambiano anche a seconda delle casistiche, per cui dobbiamo coordinare gli interventi, l'informazione all'ASUR e l'informazione concomitante alle famiglie. Va peggio all'infanzia e all'elementare, un po' meglio alle medie, potremmo essere intorno al 60% delle presenze in tutto l'istituto. Un istituto che conta 1.200 alunni dai 3 ai 14 anni su 12 plessi, dove per agevolare e rendere tempestive le comunicazioni scuola-famiglia in materia di Covid, la dirigente ha voluto una mail dedicata. Io devo dire che la componente docenti è quella che al momento, è quella che mi dà più forza e più coraggio nel portare avanti tutta questa situazione, perché nonostante tutto non ci siamo mai arresi, quindi pur seguendo questo vortice nel quale praticamente siamo coinvolti tutti i giorni, i coordinatori di classe o comunque i responsabili delle sedi hanno subito preso in mano la situazione, abbiamo fatto degli incontri di coordinamento, per cui sappiamo come dobbiamo intervenire, avevamo già un piano B sulla didattica a distanza, per cui anche i genitori sono informati degli orari, della didattica, di come si fa, quindi da questo punto di vista il cambiamento, oggi c'è uno, domani c'è l'altro, si toglie due, si mette tre, eccetera, siamo abbastanza rodati. E poi continuiamo la didattica, che questo vuol dire anche la normalità, per pochi fa niente, però anche quei pochi a scuola ci vengono. Sul versante del Green Pass la stragrande maggioranza degli insegnanti e del personale non docente ne è in possesso, anticipando le sospensioni dei non vaccinati, la dirigente Barisio ha fatto fronte con le supplenze. Nel mio istituto devo dire che quasi al 95% le persone si sono adeguate, quindi hanno rispettato l'obbligo vaccinale. Ci sono persone che non hanno voluto fare, come tali hanno subito i procedimenti che sono stati imposti dal Ministero. L'aumento dei contagi ha costretto il Comune di Fano ad annullare lo storico Carnevale, il più antico del mondo e tra i più importanti d'Italia, ma la manifestazione si terrà con una forma di accoglienza turistica a luglio. Thomas Delbianco. L'ondata pandemica, con l'aumento dei contagi, ha spinto l'amministrazione comunale di Fano ad annullare il Carnevale nel tradizionale periodo di febbraio, ma la manifestazione carnevalesca fanese, una delle più importanti d'Italia, non è stata cancellata, bensì spostata a luglio. Fano non può fare a meno del suo Carnevale, come diceva il buon professor Berardi, il Carnevale a Fano è una cosa seria. Purtroppo non possiamo farlo nel suo alveo naturale, cioè nel mese di febbraio che è il periodo del Carnevale. Questo riguarda non è un problema solo di Fano, è un problema dell'Italia. Un po' tutti i Carnevali hanno dovuto, anche contro voglia però, rinviare questo appuntamento, anche noi lo rinviamo perché la sicurezza sta al primo punto. Viene rinviato nel periodo estivo, quando la situazione, anche avendo uno storico ormai degli anni precedenti, consentirà di poterlo fare, si trasformerà in un evento di accoglienza, però siccome neanche sotto la guerra il Carnevale si è interrotto a Fano, un'altra delle caratteristiche del Carnevale più antico del mondo, cioè quello di Fano, che dal 1347 in una forma o in un'altra non si è mai interrotto. E allora anche noi in questi anni, anche lo scorso anno pur rinunciando al sfilato tradizionale, però il Carnevale ha avuto una sua identità e una sua presenza e anche quest'anno sarà così. Parliamo ora di elezioni al Quirinale, terza fumata nera per eleggere il Presidente della Repubblica, ma domani si farà sul serio perché basterà la maggioranza assoluta dei voti. Si fa avanti l'ipotesi di un Mattarella bis, ma noi abbiamo sentito il Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, nonché coordinatore dei sindaci del PD, che chiede di puntare sul Premier Draghi. Andiamo a sentire perché in questa intervista di Thomas Delbianco. Sindaco, votazione del Presidente della Repubblica, fumata nera, molte schede bianche, la sua idea, quella di Draghi? Io penso che in questo momento sia la figura che più di altri può rappresentare al meglio l'Italia nel mondo, è una fase delicata. delicata perché siamo ancora dentro la pandemia, delicata per la gestione del PNRR e l'affidabilità che l'Italia ha dimostrato nei confronti dell'Europa e anche alla luce dei nuovi eventi internazionali perché ciò che sta succedendo in Ucraina è molto preoccupante. Questo incontro Letta-Salvini potrebbe arrivarsi a una soluzione? Ma è chiaro che abbinato ad un'eventuale nomina elezione di Draghi ci vuole un accordo sul governo, questo è evidente, però non vedo chi, se non Draghi, può garantire il proseguo della legislatura garantendo da Presidente della Repubblica un governo sulla stessa cornice politica che l'ha portato a Palazzo Chigi. Altrimenti il rischio è che si spacchi la maggioranza di governo sull'elezione del Presidente della Repubblica e questo avrebbe conseguenze gravi anche sul governo stesso perché se Draghi si vede frantumare la maggioranza, dividere la maggioranza che lo sostiene al governo difficilmente potrà rimanere a Palazzo Chigi, quindi è una partita molto delicata, io lo penso da settimane a meno che ci sia davvero un sussulto di tutte le forze politiche a partire da Salvini che chieda al Presidente Mattarella di rimanere ancora. La vedo dura, mi pare che Salvini sia molto più orientato a spaccare il centro-sinistra in questo momento o a trovare soluzioni di parte, così come credo che il Movimento 5 Stelle abbia una grande opportunità perché se il Movimento 5 Stelle si sposta in queste ore su Draghi, Draghi ha già la maggioranza alla quarta votazione per essere eletto. A meno che Berlusconi che inspiegabilmente si è ecclissato, dopo aver tenuto sulle spine tutti per settimane, si è ecclissato, ritornino alla scena proponendo lui una soluzione di questo tipo. Vediamo, insomma, ancora c'è tempo, anche se gli italiani non credo che meritino e soprattutto possano permettersi in questo momento una discussione troppo lunga perché le emergenze da affrontare sono tante, la situazione è una situazione straordinaria e noi questa settimana dobbiamo avere un Presidente della Repubblica il più unitario e il più forte possibile. Ora la cronaca giudiziaria sono stati sentiti in qualità di testimoni della difesa i tre medici che lavoravano all'interno della RSA di Offida tra il 2017 e il 2019. Questa mattina davanti ai giudici della Corte d'Assise di Macerata ha ripreso infatti il processo che vede imputato Leopoldo Vic, l'infermiere grottamarese, accusato di aver ucciso otto ospiti della casa di riposo e del tentato omicidio di altri quattro. I medici hanno riferito di non aver notato situazioni sospette e che anche da un punto di vista clinico l'accumulo di medicinali in pazienti anziani potrebbe considerarsi nella norma. Il processo è stato aggiornato al prossimo 2 marzo quando non è escluso che possa essere sentito lo stesso Vic. Siamo arrivati alla pagina sportiva. Questa mattina una delegazione dei club di Serie B guidata dal presidente Mauro Balata è stata ricevuta in udienza da Papa Francesco, un'esperienza intensa e umanamente costruttiva. Grande emozione quella manifestata anche dal presidente Carlo Neri e dal vicepresidente dell'Ascoli Calcio Roberta Pulcinelli al cospetto del Pontefici al quale hanno consegnato il gagliardetto dell'Ascoli. L'incontro si è concluso con la consegna a Papa Francesco da parte di Balata anche di un pallone. Andiamo in Serie D. La Samb stringe per il mercato dei giovani e potrebbero essere quattro gli under tesserati dai Rosso Blu. Michele Natalini. Quattro under per la Samb di Stefano Visi e Sant'Alfonsi. La società di Roberto Renzi si è convinta a dare più sostanza alla batteria di giovani. Quei Rosso Blu che intanto aspettano, come tutte le squadre di Serie D, il via libera della Federazione per la riapertura della finestra del mercato invernale nei dilettanti. Dovrebbe essere imminente, di sicuro, il ritardo rispetto alla previsione che indicava oggi. La priorità in casa Samb è sempre il terzino sinistro e ormai ci siamo per l'arrivo di Francesco De Marco, 2003 di proprietà del Perugia che lascerà la primavera del Napoli. L'alternativa tenuta in caldo all'evenienza dal consulente di mercato Rosso Blu Riccardo Solaroli è Giovanni De Luca, anche lui classe 2003, ma al Montefano squadra di eccellenza marchigiana. Il terzino è un attaccante. Da ieri è in prova alla Samb Samuele d'Agosto, pure lui del 2003, passato per i settori giovanili di Napoli, Avellino e Benevento e transitato un mese per Perugia, salvo poi non essere tesserato il dicembre scorso. D'Agosto è già piaciuto dopo il primo allenamento, può giocare esterno, prima punta o trequartista. E ancora, l'altro obiettivo è un terzo portiere, nel mirino un giovane di valore straniero del 2004, ma si registra la concorrenza di un altro club. L'alternativa è sempre il diciottenne Giuseppe Fares, dell'audace Cerignola. Non basta, potrebbe arrivare anche un terzino destro, un vice alboni, e il nome che la Samb sta provando a portare a casa gioca nell'eccellenza laziale, è Niccolò Ortu dell'atletico Ludigiani, classe 2004. Capitolo Federico Angiulli, il centrocampista si opererà al piede sinistro infortunato a inizio dicembre domani nel Veronese. La Samb conta di riavere il suo capitano entro un mese, intanto però il capitano del Monterosi, Davide Buono, alla fine è rimasto dove sta. Vuole la Samb e continua a proporsi. Il presidente Renzi per ora non cede dal suo proposito, ma Buono ha caratteristiche che, anche nel caso la coppia Visi-Alfonsi-Viri sul 3412, potrebbe fare comodo ai rosso-blui. Quarta sconfitta di fila per il Castelfidardo, il notaresco batte infatti i marchigiani nel recupero della nona giornata, grazie ad una rete al secondo minuto della ripresa di Maio, e consolida così il suo quarto posto in classifica. Il servizio è di Enrico Tassotti. Castelfidardo e Notaresco riescono finalmente a disputare il recupero della nona giornata, rinviato per ben tre volte il 14 novembre, il 6 e il 19 gennaio. Al Galileo Mancini la spuntano gli abruzzesi, grazie ad una rete ad inizio ripresa di Maio, che consente ai rosso-blui di conquistare il secondo successo consecutivo e consolidare il quarto posto in classifica. Terzo stop invece per il bianco-verdi di Mr. Manoni, che hanno trovato parecchie difficoltà a creare vere azioni da gol. Mr. Epifani si affida a Maio al centro dell'attacco, supportato ai lati da Esposito e Valenti. Braconi e Perkovic sono invece gli avanti per il Castelfidardo, con Bracciatelli immediatamente dietro. Parte forte il Notaresco, che va subito alla conclusione al terzo con Bruno, che però indirizza centralmente il pallone, e per Gemalia non ci sono problemi. Il Castelfidardo cerca di fare gioco, ma si espone a pericolosi contropiede. Come al settimo, quando la palla perviene a Valenti, che converge verso il centro, cerca il tiro a giro, ma coglie solo il palo esterno. Al dodicesimo è ancora il numero dieci, che si beve mezza difesa a Fidardense e conclude, nessun problema per il portiere di casa. Al diciannovesimo si fa vedere sempre Valenti, ma non è fortunato sfiorando solo il palo. Il Castelfidardo è guardingo e cerca di chiudere tutti gli spazi, ma fa una grossa fatica ad avvicinarsi dai reparti di Shiba. Ad inizio ripresa arriva il gol che decide il match. Corre il secondo minuto, quando dopo una bella azione di Valenti, il pallone perviene a Maio, che mira il palo lungo e c'entra la porta con Gemalia, che non la può. Il Castello accusa il colpo e fatica a reagire. Al quarto d'ora una punizione calciata da Esposito trova la testa di Blando, che però conclude centralmente. Trascorrono due minuti e le cose si complicano ulteriormente per il pallone di casa, in quanto rimangono i dieci per il rosso diretto sventolato in faccia a Marcelli, reo di aver protestato troppo veventemente nei confronti dell'arbitro per la mancata concessione di un fallo. Il notaresco macina gioco e va vicino al raddoppio, al diciannovesimo con Pesce, la cui conclusione muore vicinissimo al palo. Alla mezz'ora è valente a mancare di poco il bersaglio grosso, dopo un errore in uscita di Gemalia. Nonostante l'uomo in meno, il Castelfidardo cerca di buttare il cuore oltre l'ostacolo e al quarantaduesimo si fa vedere con una punizione dal limite dei palladini, che però termina lontano dai pali. Prima del triplice fischio è il neoentrato scimia a cestinare l'occasione del 2-0. E ora andiamo a sentire le dichiarazioni a caldo dei due mister, Manolo Manoni del Castelfidardo e Massimo Epifani del notaresco. Dobbiamo fare un bagno di umiltà e se non mettiamo le armi che abbiamo messo nella prima parte del campionato sarà molto dura. Quindi è da ricriminare su questo, perché abbiamo commesso, secondo me, delle ingenuità, delle disattenzioni da squadra presuntuosa che non dobbiamo essere. Con questo non è che attacco nessuno. Fin da me, dal primo, sono io responsabile e quindi dobbiamo fare un bagno di umiltà, ma grande, per poter risollevare la testa. Abbiamo fatto una grande gara contro il corpetto di una squadra che è in casa, anche fuori casa, è una squadra molto pericolosa da incontrare. Siamo di qua, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ci siamo adattati al campo. Abbiamo vinto, se non è, questa è una grande gara, una grande vittoria. Oggi ho fatto i complimenti ai ragazzi perché era un crocevia per noi molto importante, l'abbiamo vinta e adesso pensiamo alla prossima. Dobbiamo pensare, dopo il finale che abbiamo avuto l'anno scorso, avendo avuto problemi con il Covid abbiamo finito non benissimo. Durante le feste abbiamo lavorato tantissimo, adesso abbiamo fatto due vittorie, siamo contenti e dobbiamo pensare con grandissima umiltà a vincere ogni partita. Poi magari non ce la facciamo, però dobbiamo cercare di fare il massimo, cerchiamo di fare i più punti possibili e vedere alla fine dove ci troviamo. È tutto per l'edizione del TG Marche dopo la pubblicità. Le notizie dall'Abruzzo.